2B Party, una festa unica al Maxi di Roma, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, per presentare il gioiello della Maison Bocca d'Amo che può trasformarsi in bracciale, cavigliera o girocollo a seconda dell'occasione. Madrina dell'evento, organizzato da Tiziana Rocca, l'attrice Nancy Brilli, che ha portato con sé il compagno chirurgo plastico Roy De Vita. Nel cuore della capitale tanti altri famosi, tra cui il giovane Andrea Montovoli, la rossa Sara Maestri, la bella e simpatica Barbara Tabita.